Dopo facendo la selezione, i più giovani da una parte, i più anziani da un'altra, le donne con i bambini, sempre nude, le donne, eppure noi, da un altro angolo, le donne senza bambini da un altro angolo, facendo la selezione. Perché questo? Per stabilire quelli che erano idoni ai lavori forzati e quelli che erano inutili e improduttivi venivano eliminati. Quindi adesso, come li eliminavano… Venivano portati ai forni crematori. Ai forni crematori, all'ogine. È vero che lei arrivò al forno crematorio proprio a pochi passi dal forno crematorio e poi per stanchezza non la buttarono dentro. Allora era il mese d'aprile, faceva freddo, quasi gli ultimi giorni, saranno stati i 15, i 12, i 20, i 10, insomma non ero più. Allora, faceva freddo e arrivò un colpo di sole, io mi ho messo, insomma, per riscaldarmi un po' che noi, ecco, poi vi faccio vedere il perché, noi eravamo vestiti con una visuccia di tela, zebrato, e batti. Non c'eravamo nessun documento… Certo. Nen' una mutandina, malietta, non c'eravamo niente, solo questo straccio, immagina Germania, sai, d'inverno, gennaio, che poi è stato un'inverno terribile, sai, oltretutto. Immaginiamo tutti la fame, gli stenti, il freddo. Eh, esatto, senza mangiare, senza niente. Allora, questo pettine di sole, mi si è in un angolo per riscaldarmi un po', mi abboccai, insomma, e mi ritrovai sopra il carrello che prendi. Poi, migliaia di volte l'avevo portato pure io quel carrello, insomma, si arrivava là, si lasciava il carrello perché vicino ai forni non potevi accostare. Certo, il carrello che portava… Infatti, tutte le catastre che si raccoglieva, insomma, le catastre che voleva morire andavano viva, andavano viva dentro i forni, perché lì erano botte all'impiede e alle 4 alla mattina svegli, più nevigavano e più ti cacciavano fuori, più ti mettevi sempre in quadrate, per 5. Molte si rifiutavano di fare le cose, si facevano sparare e quelli sparavano senza… Ma come accadde? Cioè, lei perché si salvò? Perché arrivò a due passi dal forno crematorio e poi… È perché… ma… 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 Con questo sole. Il colpo di sole, insomma, con la fama, non lo so, sono svenuto i pensieri, sono scivolato in giù come avevano fatto molti altri, perché prima di… Io mi vado a bruciare. Poi ci ripensavo lungo il carrello e si toglieva. Addirittura. Anche perché qualcuno dice, ma perché ci deve andare? Resistono a troppo pochi. Io so che soltanto per un motivo lei resisteva, no? Sì. Ripensava ai suoi genitori. E a mio padre. Le tornavano alla mente… Perché mio padre si è rifiutato di… io ho resistito, perché mio padre si è rifiutato di firmare, no? Allora, della maggiorità erano 21 anni. Io mi sono andato via a 18 anni e lui dice, non ferma con la guerra che ti ammazzano. Certo. Quindi come rispettare una volontà espressa da suo padre con quel rifiuto? Esatto. Lei… Io lo minacciai pure. Io so che adesso che a lei le sto chiedendo di esprimere dolore, di ricordare ciò che è in fondo al cuore ed è pesante come un bacigno. No, presunza. È pesante come un bacigno. Se torni, se fai un bacigno che te ne ritorni indietro, ti ammazzi, comunque non si ha seppretto dalla rabbia. Poi intervenne pure mia madre e dice, vai a firmarci che vuoi fare. Quindi le tornavano alla mente… Esatto. Le immagini. Allora diceva, per ragione lui. Io ho resistito. Le dispiace se torniamo un attimo alle umiliazioni che lei ha subito, perché noi dobbiamo conservare, far conservare la memoria. Infatti stiamo rendendo testimonianza proprio nel giorno della memoria, affinché non dimentichino e soprattutto affinché si sappia, perché le nuove generazioni sanno vagamente… Esatto. Ti va dalle scolari e racconta… Esatto. Senta, a quali umiliazioni siete stati sottoposti? A tutti, perché prima di tutto quando ti tolgo il nome e cognome e ti metti il numero… Addirittura vi sputavate, vi facevano sputare… Si sputavano addosso, poi in tedesco la cacca si chiama Scheisse, Scheisse com, Scheisse raus, poi i capelli divisi a metà, fuori classi, cioè razzi inferiore. Allora vi con la macchinetta… Ve lo ripetevano in continuazione… Continuamente… Sempre sputavano… Scheisse com, Scheisse raus… Pum… Ti sputava addosso… Molte volte non ti veniva la voglia di reagire… Erano tutti delinquenti che venivano da fronte russo… Erano proprio bestie complete… Sputatevi in faccia e le cadevano vicende… E' noto che uno faccia così… Sputava… Ma come non lo dovevi fare… Certo… Perché altrimenti erano botte frustate… Poi c'era lo sgabbello… Che io posso far vedere… C'erano le fotografie… Lo sgabbello dove si mette con l'addome sopra lo sgabbello… Le gambe in mezzo alle gambe di un altro… La testa in mezzo alle gambe di un altro… Quindi potevi muovere… E ti assegniamo quindici frustate… Il tatuaggio lei se l'ha fatto togliere con un intervento chirurgico… Sì… Questo ricordo purtroppo terribile… Non glielo toglierà nessuno… Perché… Ce l'ha dentro di sé… E pur la notte… Avrà ancora gli incubi voglio dire… Non sto male… Dopo due o tre ore di mi svegli… E o penso a questo o penso a quell'altro… O mi ricordo le cose… Parliamo di un giorno felice… Arrivarono gli americani… Si aprirono questi… Questi cancelli… Ecco… Vuoi sentire com'è bello… Era il 29 di aprile del 1945… Esatto… Gli americani si sono intrecciati… Intrati… Tutti sti cadavere… Vivi e morti… Mischiati… Per terri… Che poi vi faccio vedere… Ci sono le fotografie… Al tramonto di un giorno di primavera… 29 aprile 1945… In vila… In vila… Davanti al plotone di esecuzione SS… Perché noi dovevamo essere fucilati… In attesa di essere fucilati… Arrivarono i soldati della settima armata americana… E con essa… La vita… E la libertà… Ho vissuto ogni giorno… Come fosse l'ultimo giorno… All'alba una domanda… Resterò vivo fino a sera… Pensavo… Quando mi fucileranno… Morirò gridando… Viva la Guardia di Finanza… Viva l'Italia… Uomo numero 142… E 192… Ex e mando parete… No… E' una mia promessa agli altri… Che bisogna raccontare… Certo… E' un impegno civile… Grazie mille… Grazie…